ciao a tutti questo risulta essere un video denuncia diciamo un pochino lamentela perché c'è un show per un corso per cui ormai sono giorni che aspetto un pacco che per giunta mi è stato spedito in ritardo e l'SDA ha deciso di mandare gli impiegati postini delle poste italiane in sciopero e quindi fanno sciopero per cui non vengono consegnati i pacchi e due giorni che ho un pacco che rimettono in giacenza spero che mi arrivi domani perché ho dovuto sbloccare la giacenza per la seconda volta ma vi racconto un po tutto perché perché la mia pazienza è veramente tanta non non mi credevo di essere così paziente perché veramente per come spesso vengo mi viene risposto eccetera eccetera veramente ci sarebbe cosa da chiudo con tutti e basta comunque lascio correre le cose che meglio l'importante che mi arrivi il pacco alla fine e spero domani perché sennò veramente faccio reclamo comunque vi racconti vi volevo raccontare che è successo io mi servo sul gruppo crazy for luxury greffati a tutti i costi c'è una persona che appunto vende Michael course originali non dico il nome che comunque mi interessava una Michael course e ho deciso di acquistarla da lei visto il prezzo che comunque era basso rispetto alle Michael course ho detto vabbè faccio una pazzia e quindi mi faccio l'autoregalo di compleanno visto che questo mese è il mio compleanno me la pago da sola e le dissi guarda aspetta che dopo i morti giorno subito dopo il mio marito ritorna a lavorare io prelevo e subito ti ricarico la post pay cosa assolutamente avvenuta è fatta perché alle otto e mezza lei c'era già i soldi nella carta quindi le erano arrivati immediatamente in quanto l'avevo fatto appunto nel tabacchi con appunto per l'operazione pagando ho detto troppe volte appunto pagando 2 euro per l'operazione fatto tutto ho dato i soldi e tutto quanto aspetto visto che appunto detto alla ragazza guarda io te l'ho ricaricata le ho mandato la foto della ricevuta mi risponde dopo ore cosa che già mi dà fastidio perché se una persona ti scrive in privato che ha fatto una cosa rispondile subito voglio dire dico capisco che non hai amicizia con facebook che non si può stare sempre a guardare i messaggi però se un messaggio lavorativo visto che tu fai affari vendendo queste borse insomma rispondi almeno e mi dice guarda mi ha detto mi ha promesso che cercava di spedirmi in giornata dopo mi risponde dopo un poco quando mi arriva il corriere molto vaga quando appunto lo spedisco ti do la lettera di lettura e io fino alla sera non ne sapevo niente l'indomani mi scrive anzi la sera stessa tardi mi risponde dicendo te lo spedisco domani lì te la sei inugnata come si suol dire come si dice in siciliano te la sei molto lasciata andare i venerdì mi dice no il corriere avevo prenotato il corriere purtroppo viene a ritirarle lunedì e io lì un po storcevo il naso però porto pazienza capitare e non ho voluto dire oltre non ho voluto fare storia anche perché la ragazza mi sembrava abbastanza cortese eccetera eccetera che succede che mi risulta in consegna il pacco la lettera di lettura mi risulta tutto in consegna tutto fatto eccetera eccetera l'indomani stesso in consegna ero emozionata mi arriva oggi la borsa non sapendo che c'era appunto uno sciopero delle poste e quindi hanno cominciato a mettere i pacchi in giacenza dicono di aver trovato il citofono rotto e neanche si sono fermati più di tanto a bussare o a cercare modo di contattarmi insomma però poteva capitare sblocco la giacenza e do il mio numero di telefono rimessa in giacenza con indirizzo errato stamattina la prima chiamata mi dicono no in consegna domani ma io l'ho sbloccata ieri nessuno mi sapeva dire niente seconda chiamata da casa con numero di lettura finalmente mi dicono è messa di nuovo in giacenza non risulta sbloccata non so chi che cavolo ha combinato quel punto quello delle poste ieri e in giacenza mi dovrebbe arrivare domani sbloccata la giacenza mi dovrebbe arrivare domani sono in cacchiata nera prima di tutto perché quando ho mostrato il problema alla ragazza dicendo quale cose procedono in ritardo si è messa a ridere detto te la stanno facendo sudare la borsa tipo come se fosse una cazzata una cretinata per me era il mio regalo ci aveva speso pure i soldi quindi comunque non mi piaceva questo questo un pochino riderci su ecco perché comunque io prendo il problema sul serio se una persona non riceve il pacco io me l'informo cerco di sbloccarlo cerco di aiutarmi eccetera lei si è rinlavata le mani dice io non so come funzionano le poste italiane che ci posso fare io io te l'ho spedita ti ho fatto la lettera di vettura che cosa vuoi tipo così a un certo punto quando ha risposto così questo è sicuro che non ci compro più ovviamente mai col corso perché i problemi esistono e lei non ti segue fino alla fine per quanto riguarda il pacco il pacco doveva arrivare preciso sono una settimana che non arriva niente quindi sinceramente sono un pochino arrabbiata era il mio regalo di compleanno me lo stanno facendo disammorare e come si suol dire è tutto perché le sda in sciopero e decide di non passare automaticamente in questo quartiere ecco io spero che appunto entro domani di avere notizie di avere di avere qualcosa in mano domani dovrei ulteriormente ricevere un secondo pacco perché ho comprato finalmente la rotina dei colori e ho comprato due oli per cuticole da passione unghie la rotina dei colori costava un euro l'uno ne ho prese due per i miei semi permanenti e poi ho preso due oli per cuticole a mi sembra due tre euro che mi servivano perché mi sta affinendo quello di dei garden color quindi l'ho preso frutti di bosco e l'ho preso anche mi sembra vaniglia quindi vediamo un pochino come mi troverò con queste cose e sono emozionata perché passione unghie molto precisa mi ha fatto aspettare ovviamente due giorni prima di processare l'ordine finalmente ma sicuramente avrà avuto per il fatto dei kit avrà avuto poi hanno avuto un riallestimento perché hanno rimesso finalmente i semi permanenti a 7 euro e qualche cosa un poco di più di nistore però penso siano buoni ugualmente hanno messo una nuova gamma di semi permanenti poi hanno messo di allestimento penso alcune cose e quindi quindi sicuramente hanno avuto la fila quindi finalmente hanno processato il mio ordine dovrei avere da GLS domani il mini pacco e dovrei avere pure la borsa comunque vi volevo dire questa cosa di sda che comunque sono in sciopero questi di post italiane che mi ha dato parecchio fastidio mi ha dato un po fastidio come è stata gestita anche dalla ragazza da cui ho comprato la situazione però porto pazienza perché l'importante che alla fine mi arrivi mi arrivi questo questa cosa perché comunque ci tenevo e poi subito giorno 27 farò inoltrare il famoso pacco natalizio di nistore con tantissime diciamo novità di smalti semi permanenti quindi la seconda ruotina mi serve sicuramente e avrò anche un espositore insomma viene riallestito assolutamente la mia postazione unghie sono emozionatissima e soprattutto fra quattro giorni rifaccio il semi permanente effetto nude look con polvere effetto aurora quindi vi saprò anche dire da passione unghie come risulta la polvere effetto aurora sono emozionatissima un bacio a tutti quanti e alla prossima